I comunisti italiani guardano con molta attenzione a quello che accade nella sinistra spagnola perché il fatto di aver saputo reagire e crescere dopo anni di crisi è un qualcosa che ci interessa molto. Il Partito dei Comunisti italiani mira con molta attenzione il processo che sta occorrendo qui in Spagna con l'Istria Unita perché l'efficio di averci recuperato da una crisi e di averci saputo lucharare e crescere è qualcosa che è importante ora nell'ambito italiano e europeo per l'izzerra. E' molto importante l'unità del movimento comunista, progressista e di sinistra in Spagna e in tutta Europa. E' molto importante l'unità dei movimenti progressisti, izquierdi e comunisti in tutta Europa. Perché solo con questa unità si può sconfiggere e battere quelle politiche che la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale vogliono fare. Perché solo con questa unità si può lucharci e derrotare le politiche che il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale e questa Europa stanno intentando applicare. E per questa ragione che dai comunisti italiani non può che venire un grande augurio fraterno ai compagni spagnoli, a Cayo Laro, a tutti quegli uomini e quelle donne che sono impegnati in questa assemblea. E per questo dal Partito Comunista Italiano non può venire un deseo di èxito per la Izquierda Unida, per la Collo Laro e per tutto il movimento progressista di Izquierda e di Spagna.